Questa è Lucciola, una lampada relativamente semplice da fare, anche se ha grosse dimensioni, però come le cose semplici va fatta molto bene, come fare una pasta al pomodoro, può essere buona, può essere cattiva. In questo caso la difficoltà sta nel distribuire la parte del bianco in maniera uniforme, perché la luce poi sia uniforme e non abbia dei punti oscuri, grigi. È ancora uno stampo che va lavorato in rotazione, va soffiato ovviamente con estrema perizia. Si fa, pensate, dal 1981, quindi questa lampada ha quasi 30 anni di storia. È tutto automatizzato, in realtà, l'abbiamo detto più volte, come un organista, il maestro usa il tagliante, usa l'apertura e la chiusura dello stampo. Adesso sta per uscire la lampada, che poi verrà ovviamente controllata, come tutti gli altri codici, con una luce molto forte che ne evidenzia eventuali difetti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.